Lo sapevi che il piatto preferito dal gambero è la lasagna? Lo sai qual è la band preferita dai gamberi? No? I Beatles? Lo sai che i gamberi vanno al cinema in mutande? Se non sapevi queste cose, benvenuto nel regno dei gamberi. Il Gambero Podcast. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel secondo episodio del Gambero Podcast. Oggi, come secondo ospite, vi porto niente po' di meno che Michela Grasso, amministratrice della pagina Spaghetti Politics e studente universitaria ad Amsterdam. E innanzitutto, ciao. Ciao, come stai? Io tutto bene. Grazie mille per avermi invitata. Grazie a te di aver ricevuto l'invito. Voi vi chiederete perché abbiamo invitato Michela. Vi spiego subito. Ci sono due motivi principali. Il primo, perché il canale si chiama Gambero Podcast e non potevo non invitare una che aveva un nesso con il mio nome. Quindi oggi non è una gamberata, ma è una spaghettata con gamberi e zucchine. E poi, seconda cosa, volevo leggere un messaggio del 2015 che dicevo anche a Michela prima, che recita così. La prima parte introduttiva la lascio stare e recita così. Tralasciando questo piccolo particolare, volevo dirti che mi piace il tuo modo di pensare e dalle cose che pubblichi su Facebook ho capito che abbiamo lo stesso punto di vista su certe cose. Niente di che, ciao. Questo era stato un messaggio. Nel 2015. Nel 2015. Però il contesto, no? Cioè, siamo di paesi vicini, Lombardia. Quindi, c'è più o meno. Sì, infatti, io sono il tuo primo fan, giusto? Mi hai detto. Esatto. Dato che la pagina, quando l'hai aperta la pagina? Nel 2019. E io te l'ho scritto nel 2015. Sono già, ero avanti di quattro anni. Ero avanti di quattro anni. Sì. Tu sei ad Amsterdam, giusto? Sì, sono qua ad Amsterdam. Com'è la situazione Covid? Com'è stata? Ma adesso io odio stare qua, perché c'è tutto chiuso e non c'è niente da fare. Cioè, i casi sono altissimi. Penso siano i più alti che ne abbiamo mai avuto. Siamo in lockdown da tipo novembre. Quindi non si riesce a capire perché. E niente. Ho avrei voglia di andare via, però anche in Italia. Ma non si può tornare. È un casino. Quindi, tanto vale stare qui. Mi ho nevicato ieri notte, quindi. Ah, benissimo. E così. Allora, io ho letto su Instagram, c'è una particolarità tua, che ho l'onore di intervistarti nel tuo mese preferito. Aprile. Perché aprile? Perché aprile? Sei nata ad aprile, tu? No, sei nata ad agosto. Lei è nata ad agosto. Il suo mese preferito è aprile. No, è perché il mese della resistenza, quindi, su spaghetti è un mese molto importante, perché noi parliamo sempre, cioè, ne parlo sempre. Quindi mi piace, perché si può sempre, non so, trattare dell'argomento della resistenza, della liberazione. Mi è sempre piaciuto. Ho cresciuto in una famiglia molto sinistra, quindi... Sinistra non brutta, diciamo. Sinistra nel senso, di sinistra, non sinistra aggettivo brutto, diciamo. No, no, di sinistra, bella sinistra. Quindi il 25 aprile è sempre stata una giornata importante, e no, sono crescita così. È tipo Natale, Natale 2. Sì, e, partiamo, ma tu hai, comunque, vedo anche che hai tanto bacino di utenza pure inglese, pure, no? Cioè, comunque straniero. Sì, perché comunque l'ho fondata per stranieri, e poi, vabbè, è arrivata più agli italiani che agli stranieri, alla fine come pagina. Però, comunque, essendo basata da Amsterdam, essendo iniziata dall'università qui, con gli amici stranieri, ho tipo il 10%, che non è italiano. Comunque il 10% non è tantissimo, se ci pensi, però è un numero abbastanza... Sì, vabbè, sì, sì. Sì, su 200.000 sono 20.000 persone. Su 200.000 sono 20.000, sì. Esatto. Ma come ormai ti è venuta questa idea qua? Eh, me lo chiedono sempre tutti ormai. Il nome, beh, il nome è geniale, il nome è geniale. Il nome è bello. Ma sai che, allora, per il nome non ne ho idea. Giocavo, cioè, volevo fare un blog da sempre, dall'inizio della mia università, e volevo fare un blog sull'Italia, da Italiano all'estero, e pensavo sempre a questi nomi con il cibo collegato a, non so, qualcosa, e c'avevo tante idee in mente, però so che quasi mi sembrava quella più utile. Tra l'altro era stata usata anche in dei peperi accademici, che avevo trovato, quindi mi sembrava proprio perfetta. E, no, era nata nel 2019 a gennaio, e tra l'altro questa domanda me la fanno davvero tutti, quindi ormai ho la risposta preimpostata. Perché, appunto, parlavo con questi amici, ho principalmente amici non italiani qui, e volevo parlare di politica italiana, ma non avevo link da mandali, giornali, pagine, eccetera, perché non ce n'erano da loro, per loro, per capire l'Italia, no, in inglese. Quindi ho detto, vabbè, dai, posso farlo io, però lo faccio in una maniera un po' ironica. Diciamo che scherzavamo spesso sull'Italia, sul fatto che sia un po', insomma, la politica sia un po' la partelletta, quindi, non so, guardavamo magari i video di Berlusconi, di quando, dei suoi tempi d'oro, cioè ci facevano morire da ridere, e allora è per quello poi la pagina ha la foto di Berlusconi. E lui è il capo. Esatto. Infatti, volevo parlare anche del... Tu sulla pagina Instagram, in descrizione, mi pare che hai... Sono considerazioni personali, non mi ricordo cosa c'è scritto. Sì, opinioni personali. Opinioni personali. E volevo parlare di questa potenza che hanno i social, e di questo... Come hanno cambiato il mondo. Io penso che sia una cosa molto... Che è positiva, l'arrivo dei social, però, dall'altra parte, proprio su questo fronte, su fronte notizie, fronte informazione, è un po' un'arma, diciamo. Non so come la pensi tu. Sì, beh, sì, è tipo un'arma a doppio taglio, si può dire. Allora, intanto la parte sulle mie opinioni personali, perché penso che sia possibile dare una notizia senza la propria opinione, in qualche maniera... Cioè, già solo nella sua scelta di parole c'è qualcosa di tuo, no? Quindi, già quello dà una parte di te. E voglio evitare qualsiasi misunderstanding, quindi dico che sono le mie opinioni e basta. E... Cioè, sicuramente i social sono strautili nel momento in cui danno voce a dei gruppi che normalmente non avrebbero voce, tipo io, ventenne, italiana, femmina, non so se potrei avere uno spazio in Italia senza i social dove posso parlare a 200.000 persone. Quindi un po' ti dà lo spazio che ti cerchi, che ti trovi, insomma. È uguale per le comunità magari marginalizzate, che siano, non so, la comunità dei neri, di seconda generazione in Italia, quindi dei ragazzi che vogliono farsi sentire di non avere la cittadinanza oppure la comunità LGBT. Cioè, normalmente non ci sarebbe spazio per loro in tv, sui giornali, quindi sui social se lo prendono. Però sì, c'è un po' il problema delle fake news e di come l'informazione viene fatta, se è fatta bene, se è fatta male. Cioè, è un discorso molto complesso. Comunque sì, un po' difficile. Hai ragione, hai ragione. Perché magari attraverso delle persone con più, diciamo, follower, più gente che la segue, più gente che poi sembra che se tu hai più follower magari ti danno più retta. O comunque non è che magari ti danno più retta, comunque hai talmente tante persone che tra quelle lì probabilmente c'è qualcuno che ti ascolta. Quindi magari si passa attraverso, che ne so, ho visto la legge Zan, che ne parleremo dopo, che Fedez ne parlano. E quando ne parlano, finché ne parli tu, magari arriva il tuo bacino di utenza, puoi mandare, che ne so, un ride, scrivere sotto, che dite, andate sotto Zan, scrivete, accetta, 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 accetta. E un conto. Però quando prendono una posizione, diciamo, tra virgolette, i colossi, comunque le persone che contano, si spostano gli equilibri. Esatto. Ma infatti forse su questo i social sono un po' una cosa dubbia, perché anche con la questione di Trump bannato, cioè si è visto un po' il fatto che i social hanno un certo potere, che anche l'algoritmo, c'è qualcuno che è seduto nella Silicon Valley che sceglie te cosa vuoi vedere e in base a quello che tu vedrai poi sceglierai una certa posizione politica. Quindi sono un'arma i social, possono essere usati bene, però ovviamente ci sono tante questioni morali e filosofiche, che dice è giusto, è sbagliato. Sì. Per esempio, per esempio, se mo' le elezioni in America, quanti voti, quanti voti avrà portato, che ne so, non mi ricordo mo' come erano schierati le star, però se Madonna o se Jason Momoa, quelle persone lì di spicco, dicono io voto Biden, ti influenzano. Certo. Ma certo, poi ovvio ci sono state anche celebrità che hanno detto voto per Trump, però sì, ti influenzano tantissimo. Soprattutto se sei giovane e magari non sai bene per chi votare. Bravo, tipo Millie Bobby Brown, mi viene in mente. Sì. Lei avrebbe, avessi detto, non mi ricordo cosa ha fatto, voto per quello lì, boom. È ovvio che il tuo pensiero cambia totalmente, soprattutto per chi non si informa o chi si informa male. Esatto, esatto, esattamente. Però ci sono sempre state le persone che si informano male. Vabbè, quello sì, quello sì. Però, esatto. Io volevo centrare appunto l'argomento delle fake news e un conto è informarsi male, un conto è informarsi male, che diciamo, parlo in un'ignoranza o in un genitua, in un'ingenuità o anche una velocità di una notizia che è arrivata, che arriva di botto e così magari l'hai inoltri subito l'amico. Però un conto è informarsi male. E un conto è informare male. Sì, sì, assolutamente. Sì, e quella è dura. Cioè, è una cosa molto complicata anche per me. Cioè, mi è capitato anche a me di magari condividere a volte notizie che di impatto mi piami. Cioè, mi impattavano, le condividevo e poi mi rendevo conto magari 20 minuti dopo che qualcuno mi diceva guarda che non sono sicura. Allora poi controllavo e dicevo ma dopo anche io ho condiviso delle fake news a volte poi ovviamente le cancello, lo spiego, però succede e bisogna stare super attenti soprattutto perché spesso le fake news possono, cioè sono fatte ad hoc per nutrire certe narrative che hanno dei certi scopi, no? Quindi bisogna stare molto attenti e è un grande problema dei social di oggi. Però non saprei come si possa combattere. Ovviamente si possono segnalare. Sì, ma è impossibile. Te lo dico, la mia teoria è che è impossibile. Ti spiego perché è impossibile. Perché o c'è un sistema di filtri, tu come le filtri le fake news? E io scelgo solo news che sono sui giornali principali. Infatti, quello che ti dico io. Però io ho molte pagine Facebook perché da ragazzino io seguivo delle pagine magari di cose che facevano ridere e le hanno comprate altre persone che hanno fatto di follow e le hanno comprate. Ce ne sono tantissime di queste pagine. Per dire io, magari c'era una pagina che si chiamava che ne so, Viva il kebab magari ero iscritta e mo' è per dire pubblica sì, magari mo' pubblica notizie. Magari scrive AstraZeneca, morto, tutti sotto che scrivono no, 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 quindi è molto eh sì, è pericoloso, è un grande problema. E tra l'altro facendo fare un facendo un io per dire facendo un diciamo una sorta di corso, una cosa di sensibilizzazione alle superiori un po' ti abitui un po' a filtrare, però mi capita anche per dire nel mondo calcistico mo' c'è un mo' sei vicino al mercato estivo, sei vicino ai rinnovi di contratto, mo' questo lo faccio una parentesi per chi magari non so se e magari dice il giocatore non rinnoverà e tu guardi la notizia e dici vedi questo qua è il solito ma non sai se è vera. Sì è vero però ti devi fidare cioè è anche importante fidarsi dell'informazione dei giornali quindi se la fonte è accreditata io mi fido quello sì quello sì cioè non voglio vivere con l'ansia no beh quello no vivere con l'ansia no però beh ci sono comunque per dire cioè è importante sapere per me che sul calcio è quello lì hai il tuo punto di riferimento è lui finché non fa uscire la notizia per dire Di Marzio magari che è uno il più noto non la non la non la consideri come vera magari come giornale c'è un altro per dire se non la fa uscire il Corriere non la consideri come vera eccetera eccetera e sì comunque è un grosso 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 problema perché c'è anche una corsa alle notizie eh sì è stressissimo vedere come i giornali si derubano anche poi sono articoli praticamente uno uguale all'altro quindi sì e poi ti dicevo che è impossibile perché ci sono talmente tante persone che possono metterle le notizie che ti arrivano tante e non sai dove andare a parare questo è sì è verissimo e poi non c'è molto approfondimento insomma nelle notizie verissimo cioè si va solo alla superficie punto altro punto focale per dire magari arriva la notizia tu la guardi come ti dicevo io la guardi la condividi però non vai a fondo magari non l'apri neanche alcuni magari non l'aprano neanche non leggono neanche la condividi assolutamente mi viene in mente quando è stato ucciso l'ambasciatore italiano in Congo che tutti parlavano cioè parlavano di quello però non è che spiegavano il background il perché c'è quella guerra in Congo perché c'è quello quindi poi sì la gente lo condivideva diceva guarda questi selvaggi però cioè diamo un attimo di background serve a capire un attimo lo scenario generale certo esatto e comunque parlando parlando d'altro volevo approfondire il discorso DAD DAD ok non so se tu mi hai fatto DAD eh sì ovvio sono all'università quindi per forza ok quindi tu hai fatto DAD ma allora tu che indirizzo fai l'università? faccio scienze politiche scienze politiche domanda sono sbagliato magari no magari una minima possibilità che facevi musicologia però allora tu cosa fai? tu cosa stai facendo invece? io studio in un'accademia di recitazione ah ok bello ti dico due mie esperienze una beh allora una un'esperienza mia personale che non puoi fare recitazione in DAD è impossibile certo deve essere assurdo è impossibile o lavoro no ma neanche lavori la NASA perché è impossibile perché la connessione può essere comunque stabile però c'è sempre quella quella barriera un'altra esperienza mi è capitata con una mia nipotina dell'asilo la maestra gli ha fatto una lezione non una lezione una una chiamata per salutare per salutare i bambini chiedere come stavano augurare buona Pasqua cosa è successo in questa chiamata? lei mutava lei mutava ha mutato tutti e a giro faceva parlare le persone sì ok quindi faceva parlare i bambini cosa ho fatto ieri cosa ho fatto oggi e era arrivato il turno della mia nipotina e non si aveva tanta voglia di parlare ma non si ricordava più si era dimenticata perché è arrivato il suo turno certo poverina quanti anni ha? a sei anni eh dai ci sta ci sta ci sta poi cosa è successo si va avanti si è ricordata allora alzava la mano e però il giro andava avanti la maestra aveva mutato tutti dopo un po' si è arrabbiata si è stizzita e ha smesso la lezione perché non riusciva a comunicare e questo è un problema più c'è un problema della connessione più c'è un problema dei dispositivi o mi sbaglio? poverina non lo so mi sembra che sia un problema in generale cioè è impossibile fare la dad per i bambini ma per tutti è impossibile cioè è impossibile punto e basta non va bene non gli fa bene io infatti anche comunque per i grandi vedo molti i miei compagni che la connessione non va non mi va il microfono ed è molto anche questo problematico ma sì ma poi quanto si distrai cioè se è computer io non cioè io non seguo niente delle mie lezioni universitarie e passo tutta la vita su facebook quando ho le lezioni io dico la verità non me ne vogliono la dico o non la dico la verità la diciamo nel gambero podcast si dice la verità nel gambero podcast si dice la verità non che la verità che la verità che la verità per dire magari alcune volte capita che lezioni mentre ascolti la lezione e magari storia del teatro c'ho una canzone sotto capito sì no ci sta magari non hai non hai la concentrazione totale sulla sulla lezione ma perché veramente sei iper iper stimolato sì sì no verissimo poi io immagino tra vent'anni tutti i futuri ingegneri economisti political scientists che hanno fatto la dad che non sapranno non sapranno niente no veramente fanno i le cose che cadono punti l'economia al collasso perché studiato in dad ho fatto l'università in dad eh infatti e poi tra l'altro vengono fuori tutte quelle storie tipo quello lì che in Pullman fa l'esame ah l'ho visto anch'io quello è un eroe quello è un eroe per dire quello non so da dove è uscito quello se sei un lavoratore vuoi fare lo studente eh sì capito quello che ti dico io sì no ma poi ecco anche questo discorso ci sono delle disuguaglianze nella dad cioè se io sono una persona più ricca avranno la possibilità di fare la dad mille volte meglio di uno che che non ha una connessione buona che hanno una casa con duemila persone dentro perché hanno una casa piccola tutti i fratelli intorno e non so la madre deve andare a lavorare lo mola dai cugini e sono lì cioè è impossibile come quella bambina lì che fa la dad sulle Alpi non so se hai visto sì in Trentino dovevi infilurare sì c'è ma eh sono cose strane io mi immagino infatti chi non ha una connessione stabile un dispositivo adeguato diventi diventi pazzo io ho fatto una lezione e non mi andava la connessione tra l'altro anche a me succede perché alcune volte magari la connessione non va e ti ritrovi lì entri ed esci magari ti sta dicendo perché guardate questo è importante per l'esame ragazzi questo segnatevelo che è importante per l'esame praticamente una domanda da esame è si blocca la segnata no no c'è tutto lì smanettare tipo che cozzalone quando nel film c'è tutto smanettare e magari rientri fa avete capito benissimo passiamo avanti no e poi lì devi fare compagni è tutto è problematico problematico anche questo discorso si si e allora poi parliamo della tu hai una rubrica particolare sul si sulla pagina instagram ma tu hai sia instagram facebook ho visto che hai aperto facebook si ma non ho tempo cioè non lo guardo neanche programmo i post tipo per tutta la settimana e poi non lo guardo più via è giusto per avere una audience un po' più boomer perché comunque su facebook sono più adulti bella questa cosa qua bella questa cosa qua bella perché allora mo vogliamo vogliamo sfatare no beh non è che sfatare un mito però probabilmente bella questa cosa qua che hai detto perché probabilmente c'è più informazione magari tra i giovani di 20 anni 21 anni beh i giovani non è che dobbiamo dire tutte le età però c'è più informazione tra i giovani magari grazie a queste pagine come la tua che magari tra i grandi che magari vedono le notizie su facebook che magari sono frutto di quello che dicevo io prima sì pagine modificate che ti mettono notizie giusto per fare like perché loro vogliono fare il like vogliono fare e quindi avvicinare perché mo facebook usano solo si può dire usano solo i grandi sì è vero i grandi i grandi però usano un'utenza più alta e tutti i giovani si sono stati su Instagram quindi è bello anche avvicinare delle notizie veritiere che possono essere che possono essere anche false ok però che sono smentite subito sì no beh se quelli sugli articoli sono sempre però sugli articoli sono super super sono più le storie il problema magari che sai condivide la roba sì è vero che fai subito di botto esatto di botto e infatti è per dire anche è come quando è come quando per dire a me capita tanto su Instagram di postare canzoni magari ti scrivi iscrivi buonanotte a una ragazza per dire alla ragazza e poi dopo ascolti una canzone metti una canzone dopo due ore di impulso di getto non ci pensi neanche a quello che hai fatto prima e quindi succedono tutti equivoci tutte cose oddio sì capito devi stare attento con solo le storie che sono velocissime da pubblicare bisogna stare è vero è vero attenti comunque assolutamente parliamo di questa rubrica parliamo di questa rubrica del sabato parliamo sui nostri passi torniamo tu ogni sabato giusto sì ogni sabato parlaci di questa rubrica del sabato io la conosco vediamo gli altri allora ogni sabato la rubrica del what's happening in the world che è praticamente cosa succede nel mondo negli ultimi sette giorni e che sono notizie che magari non si sentono molto no cioè che siano o quello che succede in Mali non lo so o in Brasile cioè di solito non è che venga coperto dai giornali dai telegiornali italiani dall'informazione quindi è giusto per dare un riassunto no far capire che sai c'è qualcos'altro che sta succedendo non ci siamo solo noi e niente ce l'ho iniziata tipo qualche mese fa devo dire che a volte è dura mi ne dimentico a volte cioè magari a volte mi dico a sabato mattina oddio mi devo fare la rubrica ma ne sono dimenticata quindi mi metto lì la faccio però è sempre un piacere perché comunque vedo che alle persone piace e poi mi fa ovviamente piacere raccontare le notizie poi l'ultima notizia è sempre una buona notizia perché principalmente sono tutte notizie terribili tipo disastri morti guerre esatto e per dire in in Cina o che ne so in uno stato hanno fatto questa roba qua cioè una cosa positiva la metto sempre alla fine perché sennò è troppo un briciolo di speranza un briciolo di speranza no davvero ci serve quindi sì no infatti è giusto quello che dicevi tu capire quello che succede intorno al mondo perché comunque ti dico la verità che alcune volte capitano queste diciamo tra parentesi crisi che nel senso tu dici perché non mi hai fatto nascere che ne so a New York o che poteva essere un figlio di un millardario un figlio però dici però parliamo ragioniamo grazie che non mi hai fatto nascere che ne so in Nigeria dove c'è la guerra dove c'è il dove c'è tutte queste cose qua quindi siamo molto molto fortunati anche in una diciamo non mediocrità comunque in una normalità che poi siamo molto fortunati ma poi anche quando magari spesso abbiamo questo mito del dire ai migranti che vengono dai paesi che non sono in guerra che non è che se non c'è la guerra la gente sta bene non è che se non c'è ci sono comunque delle cose che stanno succedendo ci sono dei motivi per cui le persone se ne vanno e non dobbiamo parlare anche perché spesso è colpa nostra magari c'è colpa della nostra politica beh poi ma c'è anche per dire che io posso andare in Italia non c'è guerra non c'è niente però posso andare in Germania a vivere sì esatto capito è quello che ti dico e poi c'è beh comunque poi c'è come dici tu questa visione diciamo tra parentesi sbagliata cioè no tra parentesi è sbagliata questa visione sbagliata che per dire se viene un tedesco è il migliore che c'è se viene un americano bisogna trattarlo se arriva magari un siriano lo guardi un po' sì c'è la differenza tra l'expat che è quello che si trasferisce delle poesette occidentali all'altro e poi c'è l'immigrato che è invece la stessa cosa però è un nome diverso mi piace che tu tu c'hai termini io parlo io sono il popolo tu sei no mi piace che c'hai termini tutti è comunque verissimo è super vero questa roba qua che succede tutti i giorni e anche anche lì anche lì cioè per dire su se un e questa è la cosa un punto che per dire che non abbiamo trattato prima su facebook se viene iscritta la notizia magari un immigrato senza dire l'etnia magari un immigrato ha picchiato ha violentato eccetera eccetera e tutti boom sparano 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 magari poi si scopre che è un'altra un'altra cosa o era un italiano che tutti già eh ma quella era vestita in un modo quella lì era vestita nell'altro modo capito ci trovano tutti gli attenuanti che poi cioè non è che tutti lo fanno io non lo faccio per dire no però tanti per dire se colpa di un immigrato è colpa dell'immigrato se colpa di un italiano è colpa di un italiano uguale cioè non è che sì sì esatto assolutamente però è importante sapere ciò che accade nel mondo come dicevi tu per per non ringraziare comunque essere grati di ciò che si è ed essere fortunati perché comunque c'è sempre chi sta peggio questo è sì anche per avere consapevolezza insomma di quello che sta succedendo e poi e poi avere anche una diciamo una cultura generale su esatto esatto su che per dire se parliamo di chi dici io non tantissimo però se ti dico in Mali cosa c'è tu lo sai se ti dico lì cosa c'è tu lo sai sì è importante è importante saperlo assolutamente anche lì hai un background e anche ti dirò conoscendo le storie se ti facci con un ragazzo di quel paese o comunque ci parli e capisci anche perché magari fa certe cose perché è più timido perché perché comunque vengono da un discorso tutto diverso sì assolutamente cioè spesso noi applichiamo la nostra morale la nostra concezione del mondo a tutti gli altri ma non è così per tutti cioè non è che tutti hanno la nostra morale il nostro modo di vedere le cose tutti hanno uno diverso quindi anche quando parliamo di politica estera dobbiamo ricordare quello perché se si parla di Cina e poi tutti dicono di Oro Cina terribili orrenda però hanno una cultura diversa cioè non è che posso applicare la mia cultura da italiana a chi vive a Bo Shanghai ah verissimo è verissimo è verissimo e come volevo parlare anche che ora è molto in voga diciamo è molto calda la situazione della legge Zan sì mi hai visto parlare anche come dicevamo prima grandi nomi e come tu come la tua posizione più o meno già la so no però come la cosa ne pensi come ma ovviamente sono pro alla legge Zan cioè sarei super felice se la passassero poi ovviamente adesso che l'hanno condivisa sai Chiara Ferragni Fedez cioè a voglia proprio tutti ne parlano cioè tutti ne parlano e sicuramente secondo me sarà approvata perché si vede comunque cavolo hanno 9 milioni Fedez 12 milioni di followers Chiara ne ha 23 milioni cioè sono tantissime persone sono più dell'elettorato di guardano PD e tutti tutti quanti insomma quindi è importantissimo e sicuramente verrà approvata io sono super felice perché in Olanda ovviamente ci sono già queste misure qua è normale sì non bisogna neanche parlarne non bisogna neanche parlarne mentre cioè in Italia sembra è la libertà di espressione che non possa insultare una persona perché è gay e picchiarla cioè ma cosa vuol dire infatti infatti questo discorso che ti dicevo prima non so se nel fuorionda o nel che ti dicevo che se per dire Chiara Ferragno Fedez o Elodie mi pare c'era anche Elodie sì lo dicono se loro lo dicono io sono più eh no lo dicevamo prima con le lezioni se loro lo dicono automaticamente dici ok se lo dice lei magari lo ripubbico anch'io anche per ti dirò anche ti dirò probabilmente anche per una questione che magari fa figo fa vero o no sì sì assolutamente ci può stare cioè per un po' un'omologazione però vabbè se un'omologazione positiva ben venga però infatti infatti se per dire tu la riposta cioè non tu però tu è una persona in generale la riposta comunque fa informazione comunque magari riposta perché comunque magari riposterà quello di Chiara Ferragni che Chiara Ferragni lo prende da un'altra che tu lo prendi che lo prendi da un'altra che probabilmente è sicuro se lo posta lei che appena fa un click cambia il mondo esatto esatto quindi se lo riposta è una condivisione sana ok giusto sì sì no ma poi cioè può veramente cambiare l'opinione pubblica quindi e i politici hanno paura di lei quindi è vero anche lì e anche infatti per la questione politica c'è per dire molte lezioni molte lezioni elezioni si dice nel calcio il campionato si vince con io faccio sempre esempio del calcio perché sono mi sento quando non è mi sento a casa il campionato si vince con le squadre piccole ok e mo si sta passando una cosa che le elezioni si vincono con Facebook magari o con Instagram con i social con i social è micidiale eh sì assurdo però bisogna adattarsi al cambiamento bisogna adattarsi infatti chi magari sponsorizza di più chi fa più show chi fa più show nel senso chi fa più mette più posto fa più storie fa vedere e anche e poi ti dico da anche una sorta di essere vicino giusto? no è vero però sa c'è anche un discorso poi ha tutto da fare poi se sia giusto che i social lo facciano ovviamente ma anche basta guardare le elezioni americane che sia Trump che Biden hanno speso miliardi in sponsorizzazioni su Twitter Facebook e Instagram quindi no vero sì e volevo parlare l'ultima cosa poi dopo vai vai ti dico una una cosa mi dici il tuo pensiero e poi ok te la dico aspetta che entro nel personaggio il cat the calling no guarda ce l'avevo proprio in mente prima dicevo madonna mi lo chiederà di sicuro no non non vorrei essere un risorfaino perché infatti ho visto ho visto Aurora Aurora la figlia di Michelle Unzi che è finita su Times pure ma per me è assurda questa cosa mi fa arrabbiare tantissimo perché penso che Aurora Mazzotti ha letto una cosa giusta che a parte che tantissime persone dicevano da tantissimo tempo ma Aurora Mazzotti è figlia di Michelle Unzi che lavora per strisciare la notizia che è un programma che costantemente è misogino razzista cioè ma come ma è vero è vero che l'altra volta dicevano a N di qua no assurdo ma poi anche il modo in cui ritraggono le donne cioè anche per strisciare la notizia se abbiamo il primo del cat con probabilmente no cioè persone che crescono guardando certi programmi quindi no vabbè ovviamente solidarietà a Aurora Mazzotti perché no vabbè certo poi non è che è una cosa sbagliata però sì sì ma poi è la madre che lo fa non lei quindi però sì è importantissimo parole di catcalling ma mi sembra che adesso in Italia tutti ne parlano di colpo sì ma ma ne parlano ma ecco questa cosa che dicevamo prima ne parlano non perché Laura ora ha scritto perché il Faina ha fatto quella cosa lì esatto capito quello che ti dico sì 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 capito quella roba poi anche lui dice sono ironico fantastico lì ovvio che sì lì ovvio che se fosse stato se fosse stato che tutti avrebbero detto bravo Faina ragione diceva ok ho ragione io però tutti gli sono andati contro tutti giustamente gli sono andati contro lui è andato sulle difensive esatto però bene che se ne parli in Italia capito quindi da un certo punto di vista grazie Faina che hai hai fatto questo show hai fatto questa figura di merda hai fatto questa figura di merda però hai fatto parlare del del esatto del cat the calling come dicevamo no veramente meno male davvero sì e allora siamo siamo giunti alla conclusione di questa bellissima gamberata questa per oggi però è una spaghettata oggi è una spaghettata come si fa gamberi e zucchine si fa spaghetti gamberi e olio un po' d'olio e siamo giunti vuoi vuoi mandare un messaggio vuoi dire qualcos'altro no vuoi parlare di qualcos'altro no no va bene sei sazia spero che ti sia divertita spero che ti sia trovata a tuo agio vi ricordo grazie mille vi ricordo questa puntata si può ascoltare su youtube in video youtube in formato video per vedere le nostre due belle facce anzi per vedere la sua bella faccia mia la coprite con la cosa se non vi piace però per vedere le nostre facce si può ascoltare su spotify per per magari quando sei in strada ascolti gambero podcast esatto e si può ascoltare su tutte le piattaforme di podcast esistenti al mondo tranne su etunes perché perché non si può ascoltare su etunes non ne ho idea perché non ha un iphone perché non ha un dispositivo ah ok quindi non si può ascoltare su ma poi chi sente i podcast su etunes nessuno no però io li metto su google podcast su di perché c'è una piattaforma che ti rimette su tutti magari un ascolto su un podcast no ovvio non so come fare non so neanche io non le pubblicizzo neanche quelli lì perché comunque sono talmente però certo quindi mettiamo quindi sono però i maggiori sono google podcast spotify e youtube soundcloud soundcloud lo hai anche no mi sa di no devo vedere vi farò sapere se abbiamo comunque sono su questi siti qua quindi è finita questa spaghettata spero che vi sia piaciuta salutiamo tutti assieme come se fossimo un di gambriche michela grazie grazie di essere venuta ciao a tutti quindi ti ringrazio di essere venuta e ringrazio voi per l'ascolto ciao a tutti grazie mille ciao ciao